Musica Buonasera dal Tg Max. Tirano un sospiro di sollievo le province grazie agli emendamenti al decreto enti locali che consentiranno di garantire servizi almeno fino a dicembre 2015. Le province abruzzesi tirano un sospiro di sollievo e incassano correttivi importanti dagli emendamenti al decreto enti locali del 19 giugno scorso che rappresentava l'ancora di salvezza per gli enti locali ma che di fatto aveva deluso le aspettative delle province stesse. Il Senato ha approvato martedì scorso il maxi emendamento presentato dal Governo nel quale sono contenuti i correttivi richiesti dalle province italiane supportati dalla Commissione Bilancio che consentono di operare con tranquillità fino a dicembre 2015. Nel 2016 e 2017 inoltre si registra l'apertura del Governo a riconsiderare la manovra finanziaria e i tagli preventivati a carico delle province ragionando con un'ottica di prospettiva sulle funzioni essenziali attribuibili al nuovo ente territoriale di area vasta che si occuperà ancora di strade, scuole e ambiente. Un giorno molto positivo per le province italiane e abruzzesi, ha detto Antonio Di Marco, presidente UPI Abruzzo, abbiamo ottenuto i risultati auspicati che ieri sono stati oggetto di un primo approfondimento nella sede romana dell'UPI. Tra questi la possibilità di approvare il bilancio annuale 2015 entro settembre, poter fare alcune necessarie assunzioni a tempo determinato nonostante lo sforamento del patto di stabilità, vederci decurtare le sanzioni finanziarie sempre per lo sforamento del patto di stabilità, sanzionare le regioni che non provvedono all'approvazione della legge di riordino delle funzioni provinciali entro il 31 ottobre con l'obbligo di rimborsare le province delle spese di personale e servizio sostenute per le funzioni non fondamentali. Novità assoluta, ha evidenziato Di Marco, che è anche presidente della provincia di Pescara, la disponibilità di 30 milioni di euro per le province italiane per sopperire alle specifiche e straordinarie esigenze finanziarie. La cronaca, un incendio doloso ha distrutto la notte scorsa il pianotere di una villa nelle campagne di Casoli. In casa non c'era nessuno, indagano i carabinieri. Doloso, ma per conoscere le cause dell'incendio, gli inquirenti attendono la perizia dei vigili del fuoco. A Casoli, in località Guarenna Nuova, le fiamme hanno divorato il pianoterra di una villa in campagna. I proprietari, una coppia di siciliani residenti da anni in paese, non erano in casa al momento dell'incendio che si è sviluppato prima della mezzanotte. A dare l'allarme sono stati i vicini, insospettiti dal fumo e dal rumore dei piccoli scoppi che provenivano dalla casa, disabitata da qualche settimana. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Casoli, che hanno impiegato tre ore per spegnere l'incendio. Le fiamme hanno danneggiato il pianoterra, divorando il mobilio e annerendo l'area del portico. Danni anche al piano superiore della villa, di proprietà di GDP, commerciante. Sull'episodio indagano i carabinieri di Casoli e della compagnia di Lanciano. Un cittadino romeno di 45 anni è stato arrestato dai carabinieri di Lanciano per tentato furto all'interno di un'abitazione di contrada castellata di Sant'Eusagno del Sangro, mentre i proprietari dormivano. Proprio loro, svegliati dai rumori, hanno avvisato i militari che già da diverse notti avevano intensificato i servizi nella zona in seguito al susseguirsi di furti in abitazione, sempre con lo stesso modus operandi. L'uomo è stato intercettato e arrestato mentre fuggiva a bordo di un motociclo. Audace furto con scasso la notte scorsa alla stazione ferroviaria di Fossacesi a Marina, dove i gnoti hanno divelto e asportato la bigliettina automatica con annessa a cassaforte. I ladri hanno agito intorno alle 4 e dopo aver tranciato i fili elettrici che alimentavano l'apparecchio, lo hanno legato ad un fuoristrada all'interno dell'atrio e lo hanno trascinato per circa un chilometro e mezzo in una stradina di campagna. Nel corso del raid sono rimasti danneggiati un muretto e dei canali di scolo per l'acqua della stazione. Sul posto è intervenuta la stradale presente in zona per un controllo territoriale antifurto. Troppi rischi per i bagnanti. Il Movimento 5 Stelle chiede maggiori controlli sulle acque abruzzesi e si appella al governatore D'Alfonso. Scarsa qualità delle acque di balneazione a rischio alla salute dei bagnanti e la stagione dei balneatori. A lanciare l'allarme il gruppo consigliare regionale del Movimento 5 Stelle che fa appello al governatore Luciano D'Alfonso. Occorrono maggiori controlli, ha detto Sara Marcozzi. Troppe volte abbiamo sentito di persone, soprattutto bambini, che dopo un tuffo in mare si sono sentiti male. Quindi abbiamo chiesto a tutti i livelli, sia in Comune a Pescara, sia in Regione e sia a livello parlamentare, abbiamo presentato degli atti e delle interpellanze per chiedere a che punto siamo con i monitoraggi e il controllo dei nostri mari. La cosa fondamentale è che certamente Regione Avruzzo ha delle grandi responsabilità che la legge gli impone, cioè ai sensi del decreto legge 116 del 2008 ha proprio l'obbligo e il dovere di controllare i nostri mari, per cui noi chiediamo al Presidente D'Alfonso che aveva provesso in campagna elettorale di riconciliare le acque dolci dei fiumi con le acque salate dei mari, di fare questo miracolo e di monitorare i nostri mari e le nostre spiagge. Il Tarabruzzo ha disposto l'annullamento del provvedimento unico regionale rilasciato alla società Sagitta Immobiliare SRL per la costruzione di una centrale a biomassa di 6 megacolonnella. Il ricorso era stato presentato dal sindaco Leandro Pollastrelli e da Nazareno Vagnoni, in qualità di assessore comunale e cittadino residente in Contrada Valle Cupa, la zona su cui sarebbe dovuta sorgere la centrale. Secondo la sentenza del Tar, la Regione ha commesso una serie di errori di procedure con accelerazioni istruttorie che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione unica prima che tutti i pareri fossero stati acquisiti e prima che di fatto fosse conclusa la fase istruttoria con la conferenza dei servizi. Nuovo sciopero e presidio dei lavoratori della Tales davanti al Comune di Chieti preoccupati per la chiusura dell'azienda che opera nei settori dell'aerospazio, difesa e information technology. La Tales Italia ha già annunciato la ristrutturazione per i siti produttivi presenti su tutto il territorio nazionale. Nello stabilimento teatino lavorano 110 dipendenti, 32 dei quali in esubero. In mattinata una delegazione di lavoratori è stata ricevuta dal sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, che ha ribadito il suo interessamento, confermando che si recherà a Roma per tentare di scongiurare la chiusura del sito di Chieti. Il Consiglio Comunale di L'Aquila ha confermato le tariffe Tari, Tasi e Imu del 2014 con un'ulteriore riduzione del 5% per le utenze non domestiche riguardanti tutte le categorie commerciali ed artigianali. Il Consiglio Comunale, nella seduta di ieri, ha provveduto ad approvare le tariffe per il 2015 sui rifiuti, la cosiddetta Tari, sui servizi indivisibili, la Tasi e l'imposta municipale, l'Imu, dopo un'ampia ed animata discussione sulla base della proposta illustrata dall'assessore al bilancio, Lelio De Santis. In particolare, le tariffe Tari vengono confermate a livello dell'anno 2014 con un'ulteriore riduzione del 5% per le utenze non domestiche riguardanti tutte le categorie commerciali ed artigianali. Si tratta di un segnale politico di attenzione verso le categorie produttive che maggiormente soffrono la crisi economica e che spesso hanno serie difficoltà a tenere aperte le proprie attività commerciali. Per quanto riguarda invece l'Imu, viene confermata l'articolazione della tariffa da 0,37% a 8,1%, favorendo i proprietari che affittano le abitazioni sulla base di irregolari contratti o di accordi territoriali, al fine di calmierare il mercato e di consentire l'allocazione di alloggi a favore di giovani coppie e di studenti universitari. La Tasi è stata fissata al 2,5 per mille per le abitazioni e all'1 per mille per i fabbricati rurali. Questa importante decisione politica dell'amministrazione comunale si è resa possibile con l'utilizzo di oltre 6 milioni di euro recuperati dal Ministero degli Interni e riferiti al Fondo di Solidarietà rideterminato solo in data 15 luglio. Viene premiata la determinazione dell'Aggiunta Comunale che ha incalzato ripetutamente il Governo per il ripristino del calcolo corretto dei trasferimenti detraendo le risorse per il sisma. Questo ha consentito il ripristino del Fondo di Solidarietà e del Fondo Straordinario, erroneamente decurtati ed ha consentito soprattutto di non agire sulla leva fiscale. Con l'approvazione di questi atti riusciamo, afferma De Santis, a confermare il giudizio estremamente positivo contenuto nella recente indagine di Confesercenti nazionale che colloca l'Aquila fra le città con la tassazione tari in particolare più bassa d'Italia. Disposto lo sgombero di nuove abitazioni incontrata a fratte di Carpinito della Norra nel Pescarese dove nei giorni scorsi De Massi, tra cui uno di quasi due metri, si sono staccati dalla collina finendo in strada vicino alle case. L'ordinanza è stata firmata ieri sera dal sindaco Donatella Rosini che in via precauzionale ha preferito far uscire i cittadini dalle abitazioni in vista dell'allerta meteo delle prossime ore e considerato che c'è ancora materiale roccioso e instabile. Le 24 persone che hanno lasciato le case hanno tutte trovato una sistemazione. Il provvedimento è temporaneo in attesa dei lavori di consolidamento dell'area. Maxi Rissa tra otto giovani nella notte con tanto di sedie e tavolini volati in uno stabilimento balneare con annessa discoteca sulla riviera nord di Pescara. Il bilancio è di tre feriti lievi e otto denunciati. Sono stati sei albanesi, tutti di età compresa tra i 20 e i 25 anni, e due senegalesi che si occupano della sicurezza del locale. All'arrivo degli agenti e della squadra volante i due gruppi erano già stati separati. La discussione è nata per futili motivi e si è subito arrivati alle mani. Poi due senegalesi hanno utilizzato degli estintori per allontanare gli albanesi. Feriti tre albanesi sono stati medicati e giudicati guaribili con prognosi. Tra i 7 e i 15 giorni tutti e otto sono stati denunciati per rissa aggravata. Un garante per l'infanzia che vigili sulla piena attuazione dei diritti e degli interessi dei minori e quanto prevede il progetto di legge regionale avanzato dal gruppo misto. Una figura che promuove e garantisca e vigili sulla piena attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi delle persone minori di età e quanto prevede il progetto di legge regionale presentato dal consigliere del gruppo misto Leandro Bracco. L'Abruzzo e la Val d'Aosta sono le uniche regioni a non aver ancora istituito questa figura. Il progetto di legge dovrebbe approdare in commissione a settembre ed essere approvato entro la fine del 2015. Questa figura andrebbe a colmare un vuoto normativo e andrebbe a occuparsi di una miriade di aspetti tutti veramente complessi e delicati perché si parla di diritti dei bambini e degli adolescenti si parla del fenomeno dei social network, del cyberbullismo si parla della pedopornografia, si parla della pedofilia quindi di tematiche che purtroppo sono sempre all'ordine del giorno dei Tg nazionali e non. Questa figura andrebbe in carica a partire da gennaio del prossimo anno quindi il 2016. Mi auguro che considerata la delicatezza delle tematiche affrontate possa approdare in commissione già a settembre di questo anno e in consiglio per il voto definitivo entro fine anno. Il garante per l'infanzia, poi aggiunto Bracco, lavorerà insieme alla magistratura minorile durerà in carica cinque anni e il suo mandato non sarà legato alla durata della legislatura per ridurre al minimo i condizionamenti politici il trattamento economico sarà pari a quello del garante delle persone private della libertà personale ovvero corrispondente al 35% dell'indenità di carica 6.600 euro lordi mensili spettante ai consiglieri regionali con l'istituzione del garante infine verrà abrogata la convenzione tra Unicef e Regione Abruzzo. La Guardia di Finanza di Ortona ha sequestrato 21 grammi e mezzo di eroina e denunciato due albanesi i controlli sono stati effettuati a bordo di un'auto fermata nei pressi dell'uscita del casello autostradale di Francavilla al mare con l'aiuto di un'unità cinofile finanziaria hanno trovato l'eroina del tipo Brown Sugar nascosta in un vano sotto il sedile anteriore lato passeggero il successivo controllo dell'auto ha permesso di individuare un vano ricavato all'interno dell'alloggiamento dell'airbag lato passeggero utilizzato in passato per il trasporto di sostanze stupefacenti sono in corso accertamenti per individuare la provenienza dell'eroina in possesso di 10 alias ricercato in diverse zone d'Italia un marocchino di 31 anni Kamal El Zahiri è stato arrestato dai carabinieri a Pescara dopo essere stato sorpreso mentre spacciava droga ad un ragazzino oltre a varie segnalazioni il 31enne condannato in via definitiva ad un anno e sei mesi era destinatario di due ordini di carcerazione entrambi dello scorso anno uno del tribunale di Bologna per stalking e l'altro del tribunale di Udine per spaccio i militari di Pescara lo hanno fermato in via Lago di Campotosto mentre cedeva un piccolo involucro ad un ragazzino ricevendo in cambio dei soldi l'acquirente è fuggito mentre lo spacciatore è stato bloccato addosso aveva altri 20 grammi di hashish 30 ore di calcetto per dare un calcio alle malattie genetiche rare e raccogliere fondi per la ricerca la manifestazione è organizzata da Avis per Teleton a Pizzoferrato e Gesso Palena dal 1 al 5 agosto i ragazzi di Gesso Palena sfilano ad una ad una le maglie delle sette edizioni di un calcio alle malattie che quest'anno raddoppia l'appuntamento 1, 2 e 3 agosto a Pizzoferrato e poi 4 e 5 agosto a Gesso Palena una sorta di staffetta per 30 ore di calcetto manifestazione organizzata da Avis per Teleton con l'obiettivo di raccogliere fondi per la ricerca sulle malattie genetiche rare tutti possono partecipare dai 3 ai 70 anni l'idea è nata dall'esperienza familiare di Giuseppe Tiberini la figlia ha seguito un protocollo sperimentale al National Institute of Health di Washington per farle capire nel protocollo sperimentale erano coinvolti 8 medici di cui ben 5 erano di origine italiana e 3 di questi medici si trovavano per la prima volta a lavorare al National Institute of Health pensando al Mario Negri Sud che chiude certo fa un pochettino di rabbia perché abbiamo le competenze, abbiamo ragazzi che per esprimerle devono andare all'estero e questa è una sconfitta un po' per tutti dalla politica ma anche dalla società civile e soprattutto una sconfitta per famiglie come la mia che si trovano ogni giorno a combattere contro malattie genetiche rare quindi malattie che devono essere affrontate purtroppo in contesti che non sono italiani Sulla chiusura del centro ricerca Mario Negri Sud di Santa Marienbaro interviene anche il sindaco di Pizzoferrato all'epoca consiglieri provinciali a Chieti e contrario alla trasformazione del consorzio in fondazione Ovviamente in questo caso riflettiamo su tutto quello che è il nostro territorio quindi il bisogno di partecipazione e anche il dolore per aver perso per esempio una comunità scientifica, una struttura scientifica come per l'appunto il Mario Negri Sud forse avremmo dovuto all'epoca anche in provincia con la regione le varie comunità locali impegnarci affinché appunto il consorzio chissà diversamente dalla fondazione tenevamo legato il partner sul territorio sarebbe stato come dire essere più ricchi di qualcosa e oggi in qualche modo cerchiamo di sostituirlo con questo nostro impegno con l'impegno di tutta la comunità e delle nostre locali sezioni Avis per Teleton affinché insomma possiamo ancora partecipare in maniera intelligente alla vita della società apri gli occhi un gran sole ci sarà ti senti libero perfetto guarda le tue mani a tui grandi desideri la pagina sportiva Dirti Soccer la procura federale ha deferito il Teramo il club bianco rosso rischia la retrocessione in serie D tutto secondo copione senza sorprese è stato notificato oggi al Teramo dalla procura federale il deferimento per la presunta combin sulla partita Savona Teramo 2 maggio 2015 0-2 che spalancò ai bianco-rossi le porte della storica serie B nell'ambito della seconda tranche dell'inchiesta Dirti Soccer della procura di Catanzaro al club bianco-rosso è contestata la responsabilità diretta ed oggettiva il match consentì agli abruzzesi di ottenere la promozione in B con una giornata di anticipo rispetto alla fine del campionato con l'ultima partita contro l'inseguitrice Ascoli così ininfluente a conclusione delle indagini nei giorni scorsi la procura FIGC aveva contestato la debito della responsabilità diretta per il Teramo per il presunto coinvolgimento del presidente Luciano Campitelli e la responsabilità oggettiva per il presunto illecito del direttore sportivo ora sospeso Marcello Di Giuseppe il Tribunale federale nazionale della FIGC si riunirà mercoledì 12 agosto alle 9 per esaminare il procedimento nei confronti di Savona Teramo e all'ora 15.30 dello stesso giorno per i deferimenti inerenti il filone inchiesta sul calcio scommesso di Catanzaro le riunioni si svolgeranno presso il Vittorio Veneto Hotel di Roma la società biancorossa si difenderà con l'avvocato Edoardo Chiacchio che nel corso del dibattimento cercherà di dimostrare l'estranità del presidente Campitelli smontando così la responsabilità diretta del club che potrebbe significare la retrocessione in serie D scalpi talascoli che prenderebbe così il posto dei biancorossi non sorprende nemmeno il deferimento dell'Aquila Calcio per responsabilità oggettiva come aveva chiesto Palazzi e di Ercole Di Nicola ex direttore dell'area tecnica Rosso Blu deferito per illecito e di vieto di scommettere la società del patron Chiodi ha annunciato una conferenza stampa dei propri legali per la prossima settimana unica cosa certa che sarà un ferragosto caldissimo In chiusura un'ultima notizia tutti pronti con il naso all'insù per salutare la luna blu in realtà la luna brillerà del suo solito colore argentato ma la particolarità è che si tratta della seconda luna piena del mese dopo quella del 2 luglio un fenomeno astronomico piuttosto raro che si verifica all'incirca ogni tre anni la prossima occasione per vederla sarà nel gennaio 2018 era questa l'ultima notizia l'appuntamento con la nostra informazione torna domani e domenica con il Tg7 vi ricordo che servizi, approfondimenti e programmi sono disponibili sul nostro sito internet tgmax.it grazie per essere rimasti con noi buona serata a tutti grazie per aver guardato il nostro sito www.mesmerism.info grazie per aver guardato il nostro sito www.mesmerism.info grazie per aver guardato il nostro sito www.mesmerism.info grazie per aver guardato il nostro sito www.mesmerism.info